Buongiorno a tutti, ringrazio tutti della presenza. Per me sono molto onorato, emozionato come lo siamo tutti quanti per questo traguardo raggiunto, per questo esordio e abbiamo vissuto questi mesi la preparazione e tutto in attesa di poter affrontare questi esordi in campionato di domani. Quindi abbiamo una rosa molto competitiva, possiamo dire la nostra, mentre degli obiettivi sarebbe riduttivo nei confronti delle ragazze perché penso che è un organico su cui non bisogna porre limiti, dobbiamo pensare partita dopo partita e cercare di dare il massimo, quella è la nostra vittoria. Per quanto riguarda l'aspetto più specifico, tecnico, quest'anno è stato aggiunto un tastello in più al gruppo e alle prestazioni che venivano effettuate l'anno scorso. Sono soddisfatto della rosa che mi è stata messa a disposizione, al di là tecnicamente e tatticamente ma come persone perché penso che si sono aggiunte delle belle persone, delle persone che possono dare tanto e possono continuare a far creare quello che è la cosa più importante che è il gruppo. Grazie.